una passeggiata nelle città barocche della val di noto in sicilia non può non comprendere ragusa posta 500 metri di quota la cittadina è costituita da due parti distinte la vecchia ibla eraia roccaforte dei sicoli che qui si arroccarono per sfuggire alla dominazione greca delle coste e la ragusa settecentesca che la sovrasta e proprio a ibla scopriamo un altro spettacolare duomo barocco che si affaccia su tutta la città dedicato sempre da san giorgio al duomo di san giorgio infine si contrappone a ragusa superiore un'altra bella cattedrale settecentesca dedicata a san giovanni battista quello che colpisce particolarmente della città sono anche i tanti balconi in stile con quelli di noto sorretti anche qui da innumerevoli sculture ognuna delle quali racconta una storia particolare grazie a tutti